Io sono una residente di via Bravini e sono molto arrabbiata per i lavori che dovremmo fare dell'isola pedonale. Innanzitutto la fanno in prossimità di una curva che ho segnalato come pericolosa già da tempo, in quanto la via Bravini di sera è totalmente al buio, c'è un'illuminazione scarsa, è stata segnalata più volte e mi è stato risposto che verrà potenziata in un triennio, un futuro triennio. Allora io mi chiedo, abbiamo una strada abbastanza pericolosa perché gli automobilisti vanno forte, hanno fatto le strisce pedonali e quali strisce pedonali faranno questa isola, ci sarà un restringimento ovviamente della careggiata e qui passano anche gli autobus a doppio senso di circolazione. Al venerdì mattina è un disastro perché tutti i pendolari che provengono dal Veneto passano per questa via perché c'è il mercato. E io mi chiedo la motivazione, io come contribuente voglio sapere dove vanno i miei soldi e se devono essere mutati in questa isola sono molto d'accordo, io voglio che vengano utilizzati in modo mirato. Era necessario fare un'isola pedonale? Non era meglio fare una zigrinatura, una possibilità di rallentamento, di dissuasori della velocità senza andare a fare questa opera? Grazie.